Buona giornata a tutti, eccoci nuovamente insieme per gli ultimissimi aggiornamenti in merito ai pagamenti di Inps che sono in corso oggi 30 settembre e quelli che avranno inizio a partire da domani martedì 1 ottobre. Come di consueto mi raccomando mettete subito un bel like al video per premiare la tempestività e se ancora non siete iscritti alla pagina o al canale fatelo è utile e gratis ma serve soprattutto a voi per essere informati ed aggiornati su tutto ciò che vi spetta di diritto. Partiamo subito dai pagamenti che sono ripartiti questa mattina e come già sapete oppure pubblicato altri video messaggi sono in corso ancora i pagamenti per l'assegno unico universale mensilità di settembre. Ancora pagamenti in corso per il bonus IRPEF ex bonus renzi da 100 euro o trattamento integrativo sulla Naspi. Ancora ricariche per la carta acquisti o social card da 80 euro bimestrali e ancora pagamenti per la disoccupazione della Naspi. Ancora ricariche in corso per l'assegno di inclusione ADI parliamo di ricariche ordinarie mensilità di settembre e qui diamo ancora un'altra notizia come già anticipato Inves sta lavorando sugli errori o meglio orrori delle domande decadute perché i sistemi non hanno riconosciuto l'invalidità quindi ci saranno lavorazioni straordinarie proprio per quelle domande decadute a causa di errori da parte di Inves. Ancora pagamenti in corso per il bonus SFL da 350 euro supporto per la formazione di lavoro mensilità di settembre. Ci spostiamo a domani martedì 1 ottobre con i pagamenti per le pensioni di ottobre sia per correntisti bancariche e postali mentre per coloro che li ritirano contanti allo sportello ci sarà il classico calendario in ordine alfabetico. Si parte proprio da domani martedì 1 ottobre a pagare dalla lettera A alla C, mercoledì dalla lettera D alla K, giovedì dalla L alla P ed infine venerdì si pagherà dalla lettera Q alla lettera Z. Ci saranno sempre a partire da domani anche i rimborsi del 730 per tutti coloro che hanno come sostituto d'imposta l'istituto Inves e in virtù degli aumenti vi rinnovo ancora una volta che non c'è nessun aumento sulle pensioni tranne per coloro che prendono i rimborsi del 730 e per coloro che devono ancora riscuotere la quattordicesima mensilità. Grazie di cuore a tutti mi raccomando condividete fate girare e mettete subito un bel like. Ci aggiorniamo alle prossime notizie.